Michele che puzza! Stai registrando! Stai registrando! Stai registrando! Se tu ti metti qua! Suda a tutti! Ah ma hai rovinato un 3! Suda a tutti ragazzi! E oggi c'è un nuovo video, un cosiddetto... Frank, Walter... Qua c'è spicciolo! Un cosiddetto video del grado! Walter! Noi combatteremo, combatteremo tutti alla morte, porteremo il nostro canale fino al 1200 Siamo in un videovlog, musica, questo è il colmo, videovlog e passiamo alla prossima clip in cui c'è l'uomo che esce le pette Allora ragazzi volevo solo un attimo sponsorizzare questo canale chiamato Ilpal Aspetta che ti inquadriamo mentre dici Ilpal, la bocca Volevo solo dire che prima di Halloween è uscito un video insieme a Halloween Coop Sempre Coop Ma nella box? C'è Mila Coop Nel suo canale, metterò il link nel suo canale e pure del video Che figo Bello Parla di volta Ma così è no, io non l'ho inscritto Ma siamo in diretta Siamo in live Un vero dico in idiota No, stai a prendere un video Allora, volevamo dire Niente, che a presto Molto presto Arriverà una serie di me, di capo Su FIFA 16, stagione in Coop Non chiedeteci perché ti stiamo tenendo questo poi in mano Perché effetti Ok C'è qualcuno in ultimo E quindi la faremo La stagione in Coop Dovamo uscire i capezzoli Chi perde? Chi perde cosa fa? No, mettiamo in Coop Mi chiamano la stessa squadra Si chiama C'è 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 la testa della Coop? Si, si Ci uscirà Infatti Questo su Telegram No, no Eh, praticamente sarà un video in coop Ah, no Da, la gente ci dicono Mi d'alzare la voce Perché poi L'ho pure un coglione che non si sente Guarda proprio Don Enrico Collaborazione con Don Enrico No, non sappiamo No, facciamo un po' Senti su PC In Coop In Coop In Coop E poi In Coop Minchia E poi Hai visto un cazzo di video E poi volevamo anche Sponsorizzare come Andrea ha sponsorizzato un video Volevamo sponsorizzare come fai fattura Del Senti su Senti su Senti su La luce Oh, la luce scende se di scienza Stai zitto Mi chiamo Sabinetta E la Barbara d'orso E il mio padre è barato Ma che fai adesso? Ok Senti su Senti su Eh, ma va con un cuore Cosa cazzo di luce Bravo Ciao Ciao Bene, siamo qui Siamo qui Siamo qui Siamo qui Siamo qui Poi hai ragionato Sì Sì Oh, you touch my ta-la-la Mmm, my ding-ding-dong Allora, parliamo forte perché dalla regia c'è più grande su C'è più grande su Copiata Allora, praticamente Non lo so Non lo so Non arrivo Ciao Dindo, ho una topea Allora Volevamo sponsorizzare le vostre pagine come serve Allora, abbiamo le pagine su Asker Ah, è su Asker Allora One moment please Su Asker Specifico L'ultima nostra domanda era su Fragini Ero Eh Ridilla, ridilla Ridilla L'ultima nostra domanda che ci hanno fatto è dove volete andare noi su Marte per vedere che ci sono più soffragini Diretti che la ridieni No No, questa però No, questa però No, no, no No, no, no Poi, poi, allora Poi la pagina Facebook che dovrà mettere nei blog, ma se non ci fate dovete internet Mentre lo so spedermi un C'è un secondo? Mi la metto leggenda 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 Pochi La La pagina Si twitter Vabbè, lasciamo stare anche le faccine twitter Mi la metto leggenda Mi la metto leggenda Scena Ehm Così La pagina Instagram Quella 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 Ma di cazzo No Comunque Vogliamo dire che vi ringraziamo noi siamo a 280 Ringraziamo tutte le nostre buttons Che ci servono e vogliono facce Col cuore Ma noi siamo tutti fidanzati Madami Io l'avevo detto Mi raccomando 300 iscritti prima del 2016 In un video E lui ci sarà messo a vedere All'ultimo Ma si facciamo prima Siamo quasi a dicembre Ci crediamo Ci arriviamo Mi scherzi Allora Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate Mi piace Perché vediamo tutti i video Per una volta facciamo così Guarda E' bella Ciuccia non lo basta Tu che ti hai scritto Ciuccia Solo Tu che ti sei Tu che ti hai scritto E' bella E' bella E' bella